Che le nubi fossero nere sopra l'arena di Verona e di un suo centenario festival lirico non è una novità e questo, metaforicamente, non è solo un problema meteorologico ma soprattutto di tenuta, di solidità, di strategia in modo particolare. Oggi, dopo che mesi di trattative tra le parti in campo ed un bilancio previsionale che continua ad essere rimandato grazie a proroghe, non hanno sortito a nulla. La preoccupazione forte che non ci sia un bilancio preventivo mette a rischio la stagione areniana che poi non è l'unico business, fra virgolette, appunto della fondazione. Noi abbiamo chiesto di puntare alla fondazione sul ballo, sul coro, sull'orchestra anche con delle collaborazioni all'interno del Veneto se non anche all'interno del nostro paese, tutto insomma. Lo spettro del commissariamento è dietro l'angolo e quello che è già successo nel settembre del 2008 dopo due anni in russo e di stallo sembra l'unica prospettiva possibile. Beh, poca rete, sono d'accordo perché noi abbiamo grandi imprenditori ma abbiamo enti che fanno del sistema Verona o almeno avrebbero dovuto fare del sistema Verona anche una grande forza che sostiene un'operazione di questo tipo. Mi sembra che abbiano un po' abbandonato come sistema Verona la fondazione. Poi c'è da dire una cosa, che io fossi un'imprenditrice non investirei molto in questo momento dove chi ha diretto fin qua la fondazione Arena e quindi chi ha contribuito a non salvaguardarne le potenzialità economiche, finanziarie ed umane ma le ha addirittura tradotte in un indebitamento fortissimo beh, queste persone devono fare un passo indietro, cosa che peraltro fino ad ora non è stato fatto. Se da un lato il mondo della lirica e dello spettacolo in Italia non sorride, dall'altro quello veronese è a dir poco in lacrime e non bastano formule proposte che vedrebbero nei concerti un importante puntello tenuto conto che nel bilancio dello scorso anno proprio gli introiti di quelle manifestazioni tardavano ad essere travasati nelle casse dell'ente. Mi sembra che il presidente della fondazione Arena non sia stato tanto coperto l'abbia detto in maniera, a parte coprire l'arena che è stato chiaro ma è stato chiaro anche nel dire che c'è altra musica, non c'è solo la lirica io sono anche d'accordo che c'è il pop, concerti di ogni tipo però ciò nonostante non si può dire che l'arena, la fondazione Arena è superata come genere musicale perché fa sempre meno incassi, sempre meno gente è evidente che se va a cantare uno sconosciuto, un'opera importante è chiaro che gli appassionati, che sono comunque la maggior parte, vengono dall'estero cioè non abbiamo fatto mai cassetta, biglietteria, riempendo l'arena con gente che va a vedere le opere veronesi, no, l'abbiamo fatta perché è l'anfiteatro di Verona perché dentro c'è un'acustica meravigliosa perché abbiamo portato opere straordinari e artisti straordinari questa è la linea da tenere, secondo me vale veramente la pena che quel sistema Verona torni a concentrarsi sull'obiettivo principale